Saldi al 100% è un gioco di parole che fa riferimento al tema che abbiamo seguito quest'anno con il cammino di formazione e di preparazione dei giovani, il tema che il Papa ci ha affidato a tutti i giovani, saldi nella fede. E allora i motivi sono due, il primo perché vogliamo essere saldi nella fede al 100%, questo è il messaggio principale che vogliamo lanciare ai giovani, poi anche perché ci sarà la fiera dei valori, allora offriremo gratuitamente all'interno degli stand che saranno tutti da scoprire, offriremo gratuitamente gli elementi segreti per una vita vera, così come si dice nello spot che in questi giorni viene lanciato nelle emittenti locali, tra cui Sicilia TV, anzi approfitto dell'occasione proprio per ringraziare Sicilia TV della sua sensibilità. Ci parli del programma? Sì ci sono tante novità, a partire appunto da questa fiera dei valori ci saranno degli stand all'interno dei quali i ragazzi potranno confrontarsi con i loro coetanei, ci saranno dei video, ci saranno dei giochi a premi, su questo ci saranno tutti i dettagli sul nostro sito www.giovanifavara.it, si potranno vincere tanti premi, ci si metterà in gioco ma soprattutto la cosa più importante ci saranno tanti testimonial sui temi che saranno quelli della legalità, della lotta alle dipendenze, dalla droga all'alcol per far scoprire ai ragazzi i segreti di una vita vera. Poi un'altra novità è quella della location, quest'anno saremo infatti in Piazza della Pace, non più al Palazzetto dello Sport, andremo nel luogo dove i ragazzi si ritrovano, è un luogo dove purtroppo tante volte i ragazzi diventano protagonisti in negativo, noi vogliamo ribaltare questo protagonismo facendo diventare ragazzi protagonisti in positivo. I ragazzi potranno riflettere, confrontarsi e divertirsi allo stesso modo.